ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay vita oggi un video speciale oggi un video di news perché vi ricorderete il video su due man destiny worlds che avevo portato tempo fa ecco quell'universo di due man destiny che è diventato survival open world dove potete giocare e interpretando i quattro amici nerd che si avventurano in questo mondo con combattimenti a turni che avvengono comunque in tempo reale nel mondo ecco un gran gioco divertente e il video diciamo di oggi vuole ricordarvi che attualmente il gioco è scontato del 50 per cento su steam e breve andremo a vederlo ma soprattutto soprattutto è uscito ad ottobre per nintendo switch e adesso lo andiamo a vedere ed eccolo qui doom and destiny worlds disponibile per nintendo switch a 13 euro e 99 in sconto dal 24 fino al 30 di novembre 13 euro e 99 anziché 19 99 gran gioco come vi ho detto c'è anche la lingua italiana per i più pignoli di voi insomma come potete vedere poi qua dal dal video insomma di cose da fare ce ne sono vedete che ci sono i combattimenti e intanto possono unirsi anche i nemici insomma poi se vi va riguardate il video che avevo fatto su sul tubo dove l'avevo l'avevo giocato e che dire ora passiamo alla pagina steam del gioco su steam invece abbiamo il 50 per cento di sconto 19 99 anziché cioè 19 99 prezzo originale 9 99 il prezzo finale qua potete vedere alcuni screen del del gioco con le fasi iniziali l'inventario la gestione del di tutti i viaggi che potete fare molto divertente molto ironico sarcastico i quattro nerd sono nigel mike johnny francis vedete anche da qui se esci non sudare coperti bene sistema dinamico di costruzione si sbloccano ovviamente talenti e tutto in ottica dei quattro amici nerd che giocano di ruolo la sera si ritrovano nel mondo che stanno giocando quindi insomma non c'è limite alla fantasia all'immaginazione ma soltanto appunto l'unico limite è il numero di slot dell'inventario questo era doom and destiny video rapidissimo di news su un gioco che comunque mi sento di consigliarvi disponibile anche ed è un grande plus per questo titolo anche per console mobile mobile portatile come nintendo switch 13 99 è un prezzaccio se invece preferite il pc 9 99 e questo è quanto insomma fatemi sapere se poi voi dopo magari il mio video lo avevate acquistato avete intenzione di acquistarlo che cosa ne pensate fatemi sapere insomma alla prossima ragazzi e ciao ciao